Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video Questo video dovrò farlo in tempi record sappiatelo perché è giornata infrasettimanale però come al solito uscirà la domenica, lo sto registrando che è un martedì ed ho solamente due orette a disposizione, non ci fate caso lì l'orologio della moto non dà l'orario giusto, lo devo sistemare, ma sono tipo le due e un quarto e no, la strada è chiusa, io devo andare a destra, ecco questo non ci voleva per esempio e niente come dicevo stiamo andando verso i castelli perché oggi voglio fare un giretto locale ma la parte centrale del video sarà un'altra, come avrete capito dal titolo oggi vi spiegherò un attimino come sono organizzato io a livello di fotocamere e videocamere che tra l'altro questa devo alzare un pochino di più e qual è il setup perfetto, almeno per me non andremo a parlare nel dettaglio del tipo di ripresa che io faccio quanti frame per second utilizzo, quale risoluzione e tanti altri piccoli dettagli perché lì il discorso diventerebbe infinito, potrei continuare ore e ore a parlare solo di quello però ho pensato che questo video potesse essere utile per tutti quanti quei motociclisti che vorrebbero anche loro riprendere le loro giornate e sicuramente ce ne sono a migliaia e sicuramente con più esperienza di me ma allo stesso tempo ci sono anche dei videografi che come me conoscono bene il lato video però magari non sanno bene come posizionare tutti quanti gli accessori o come per esempio sistemare e organizzare il microfono all'interno del casco quindi oggi andremo a vedere tutte queste piccole cose facendoci in giro ai castelli tra l'altro oggi giornata rara in cui non mi vedrete mangiare perché? perché mi so appena spaccato un piattone di spaghetti col sugo e salsiccia quindi so bello pieno, oggi mi definirei tutto tranne che atletico ecco mi è entrato al folle in realtà l'idea di fare questo video che potrebbe essere di ispirazione o utile per tutti quanti quelli che vorrebbero iniziare a fare video in moto, moto vlog mi è venuta quando con il mio amico Davide gli ho detto Adam ma tu hai mille volte più esperienza di me ma perché non inizi a fare video pure te? anche io ho dato una mano a sistemare il canale una cosa e un'altra poi poco tempo dopo lui si è comprato la GoPro 12 a quel punto l'ho aiutato a regolare tutte quante le varie impostazioni a crearsi il suo setup che è praticamente uguale al mio e lui si trova molto bene poi sicuramente ecco me lo trovo qua nei commenti che dice non è vero, non è vero canta storie ed eccoci qui quindi dopo aver aiutato Davide a creare il suo setup magari posso essere d'aiuto anche a qualcun altro di voi quindi niente rimaniamo in sella e andiamo a trovare il nostro posticino dove ci possiamo mettere tranquilli come al solito e registrare non ci vedo niente oh la fenomeno Valentino Rossi dei Castelli però c'è da dire che stava dentro la riga tutto regolare signori oh questo che cavolo sta a fare questo ma il telefono mannaggia la miseria però mi diverte il fatto che io abbia la Insta360 che riprende tutto e poi ci posso fare gli shorts perché a me fa impazzire fare gli shorts su tutte quelle scenette quotidiane che incontri quello che ti arriva contro mano quello che sbarella come ha fatto questo comunque ragazzi con un attimo abbiamo trovato il posto giusto che fa per noi abbiamo una freccia no? messe tutte e quattro leva quella spegna apposto ed eccoci qua siamo arrivati finalmente l'ago alle nostre spalle vi posso parlare di tutto quanto quello che io utilizzo come attrezzatura per fare motovlog mettete subito in conto ovviamente che per iniziare a fare motovlog se questa dovesse essere una delle vostre intenzioni dovrete spendere un pochino a meno che non eravate già nel campo dei video prima di comprare una moto e di avere l'idea di iniziare a fare motovlog a questo punto io direi che la prima cosa da comprare sia una action cam da mettere sul casco vi faccio vedere se prima di questo video avete già visto altri video comunque avendo visto l'introduzione avrete notato che io qui davanti ho una gopro un microfono e poi l'attacco adesso entriamo nel dettaglio come telecamere ci sono diversi tipi di diversi marchi ovviamente ci stanno quelle della DJI gopro e anche insta 360 ovviamente su amazon trovate anche quelle più economiche ma non ve le consiglio queste qui sono superiori perché hanno essenzialmente una stabilizzazione elettronica interna e quindi in post produzione che cosa intendo durante la fase di editing non dovrete stare lì a stabilizzare manualmente ogni singola clip ognuna di queste telecamere come dicevo ha degli svantaggi e dei vantaggi secondo me la gopro è una di quelle che ha la qualità immagine migliore rispetto a tutte le altre tranne la insta 360 ace pro che ancora non ho provato però quella lì c'ha anche l'intelligenza artificiale alcuni dicono che la DJI abbia un'immagine superiore rispetto alla gopro ma io non ne sono convinto certo ha il sensore più grosso quindi in caso di scarsa luminosità offre prestazioni migliori io come gopro ho la 10 perché ho la 10? perché nel 2019 a dicembre mi è stata regalata la 8 ho fatto i primi esperimenti i primi giochi e poi ho comprato la telecamera da cui mi state guardando infine ho comprato la 10 due anni fa devo dire mi ci trovo molto molto bene ovviamente la 11 e la 12 hanno delle migliorie rispetto a questa specialmente per quanto riguarda l'autonomia il riscaldamento dell'action cam e il processore a mio avviso per iniziare vi basterà una gopro dalla 8 in poi ve lo dico per esperienza personale perché la gopro 8 ha già una buona stabilizzazione ovviamente prestazioni migliori autonomia migliore significano anche meno cambi di batteria quindi se avete la disponibilità andate per la 12 come ho consigliato anche a Davide io per il momento con la 10 mi trovo molto molto bene sconsiglio la Insta360 da mettere sul casco a differenza di altri motovlogger che la consigliano perché il sensore della Insta360 in 4K non mi piace come registra a livello di qualità successivamente ciao per attaccare le nostre action cam al casco ci sono appositi attacchi io consiglio quelli che hanno l'adesivo 3M perché è uno dei più resistenti e applicarla diciamo non è una scienza poi nella descrizione del video vi metto il link di tutti quanti i prodotti che ho io con questo qui devo dire mi sto trovando estremamente bene e anche questo l'ho fatto acquistare a Davide alcuni le mettono di lato altri in testa a me piace davanti perché c'ha proprio il punto di vista del motociclista per poter avere l'audio che va direttamente nella telecamera dipende dall'action cam che avete nel caso della GoPro quello che dovrete fare è acquistare un apparecchio esterno ci sono quelli brutti che vengono tutti laterali che a me faceva schifo devo essere onesto e quindi ho optato per il media mod costa un pochino di più però da qui avete l'accesso all'AUX USB-C e anche l'HDMI quindi tanta roba tanta roba e nel caso in cui la vorreste utilizzare come videocamera per farci vlog ha anche tutti quanti gli attacchi per i microfoni luci e roba varia mi raccomando non risparmiate sull'audio l'audio secondo me per qualunque tipo di video voi vogliate andare a realizzare è fondamentale perché volete mettere una cosa che si sente tutta quanta strana rispetto a una bella cristallina che si sente bene chiara si voglio mette quindi io qui ho preso un Rode Mic Lavalier Lavalier sono tutti quei microfonini che c'hanno piccolini che c'hanno tutto quanto il filo lungo però quello lì lo fate passare staccate tutte le fodere interne e lo fate passare lì dentro, lo arrotolate, lo fate girare intorno io l'ho fatto passare qui sotto e devo dire che va molto bene e non mi si impiccia e non mi esce quindi risultato ottimo oltre alla GoPro 10 sul casco con i vari attacchi, adattatori, microfoni e cose varie che cosa utilizzo? la GoPro Hero 8 la utilizzo quando sto andando a piedi che mi devo registrare così devo riprendere, devo fare e non so perché l'audio lo preferisco direttamente dalla GoPro 8 senza il media mod esterno perché ho anche quello per questa qui nel caso in cui mi se dovesse rompere la 10 o qualunque imprevisto e posso comunque continuare a fare i vlog per quanto riguarda la GoPro Hero 8 non c'è molto da dire la prendo, registro e carico il contenuto sul computer ma la vera bomba la new entry del mio setup è questa qua l'avrete vista in tutte le salse da qualunque moto vlogger è e devo dire devo dire vi devo dire che la Insta360 X3 è un qualcosa di pazzesco all'inizio appena avevo visto i prodotti Insta360 è un po' titubante dico vabbè c'è GoPro che fa il suo ci sta DJI come concorrente è difficile che emerga un terzo brand allo stesso livello o magari superiore dipende cosa ci dovete fare se siete pronti a spendere 700 euro perché io ho comprato questo qui con il Motorcycle Bundle allora potete comprare direttamente questa qui registra 5.7k a 360 quindi tutto quello che succede intorno a voi lo riprende non ve lo perdete e questa qui secondo me è una cosa fighissima dal punto di vista di sicurezza e di qualità dei contenuti ovviamente il grande punto di forza di questa sta nella post-produzione è il punto di forza ma anche il punto debole perché consente di inquadrare tutto e nella post-produzione potete scegliere qualunque angolo voi vogliate con qualunque inclinazione quello che volete cioè è proprio un giocattolo gli unici due difetti sono che essendo in 5.7k e io registro a 24 fps i file sono di dimensioni enormi e allungano un bel po' i tempi di editing i file li devo sempre prima editare sull'applicazione Insta Studio e poi spostarli su DaVinci quindi devo fare praticamente due volte l'editing adesso vi faccio vedere che cosa ho nello zaino questa qui era la telecamera con cui stavo registrando con il microfono sopra attaccato e questo qui è il mio zaino questo qui è il multi tool che vi ho fatto vedere nel video dell'attrezzatura che io ho sempre con me la pompetta per pulire il sensore della telecamera poi abbiamo la luce il drone il drone molto utile questo qui è un mini treppiede per la telecamera nel caso in cui non volessi portare questo qui grosso il power bank e qui ci stanno una marea di batterie GoPro e Insta360 e questa qui vabbè è la custodia del mio piccolo prodotto ed eccoci qua dai tutta la piccola spiegazione l'abbiamo finita ci iniziamo a dirigere in zona perché io come un pollo a parte che è diventato tutto coperto ma l'altra volta non avevo fatto il pieno prima di lasciarla che è mia sana abitudine comunque salutiamo il lago e intanto spero che tutto quanto sia stato utile per qualcuno di voi e poi se avete voglia di conoscere più approfonditamente quale impostazioni utilizzo o vi interessa qualche dettaglio specifico fatemelo sapere nei commenti o mandatemi un messaggio su Instagram te che stai a partire così senza una freccia senza niente che cosa devi fare? ma che sta a fare? che hai fatto? ma guardate che bello cioè che spettacolo che sta a Gandolfo comunque dopo i 5 minuti del coglion what the fuck guidiamo rilassati con un filino di acceleratore fino a Stefano piano piano mi piacerebbe creare una sorta di serie tv con tutti quanti i personaggi così voi sapete chi sono gli amici con cui esco quindi Davide, Salvatore, Fabrizio, Enrico tutti quanti Pierfrancesco, Marco non posso fare tutta la lista se no non finisce più e poi ecco magari i miei punti di riferimento tipo Stefano per fare benzina oppure dove vado a mangiare la pizza in zona quindi voi imparerete a conoscere tutte quante le mie abitudini con il tempo soprattutto se vi interessa una piccola cosa che consiglio per le GoPro dalla 10 in poi batterie enduro mi sa che ormai le vendono solamente con quelle ma quando ho comprato la 10 veniva con quelle blu le enduro le riconoscete perché sono bianche ma durano molto 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 di più nice cioè io con una sola enduro riesco a fare mezza giornata ovviamente dipende quanto registro e allo stesso tempo vi dico in sta 360 c'ho tre batterie durano una vita un'eternità oh eccoci non c'è Stefano no che tristezza oggi non ci potremo insultare come sempre porco mannaggia oh no sui guanti nuovi sui pantaloni mannaggia tutta la benzina sul serbatoio ma allora ci stavi e te pare che lavori ahahah ahahah lo puoi provare ma che fa ahahah tanto mi divertivo a gioca basket con lui e altri 3 4 facciamo proprio i danni comunque io direi dato che siamo in zona ormai lo sapete che potremmo concludere il video qui rimanete collegati mi raccomando e noi ci vediamo direttamente nel prossimo video arrivederci